Ehi, Tacio, mancano soldi dalla casa. Ma che dici? Non è possibile. Ieri sera li ho contati. Dammi qua che li conto di nuovo. Va un attimo da Marche, sta lì come un animalino. Sì, ma contali bene, perché sono sicura che mancano. Non è ancora arrivato, Mie? No, non ancora. Sì, avevo chiesto una macchina per andare... Sì, va bene, andiamo. Va bene. No, che succede? Se non ci vado, voglio dire, se aspetto qui... No, sei matta. Coraggio. Ricordalo, noi siamo conti. Grazie. Forza, su, venite. Incrocia le dita. Andate, andate avanti. No, venite, andiamo. Noi vi raggiungiamo, andate avanti. Che c'è? Resta qui un secondo. Non vedi che Mar ha bisogno di noi? No, resta qui. Mar sarà in buona compagnia. Cosa fai qui? No, andiamo, andiamo, andiamo. Io vi lascio, vi lascio. Sì, sì, Giulia, grazie. Senti, Tiago, anche se mi rinchiudi in un sottomarino non ti perdono. Non sono venuto per farmi perdonare. Sono venuto per accompagnarti. Perché sei la cosa più bella della mia vita. E se anche non mi perdoni, non importa, non importa, ti capisco. Ma lasciami condividere questo momento con te. Lasciami venire. Desidero stare con te. Per favore, ti chiedo solo questo. Andiamo, Giulia. Possiamo andare. Tiago, ascoltami, io me ne vado. Sta arrivando Teffi con il padre e non ce la faccio, me ne vado. Mar, tu non vuoi andare via? No. No, tranquilla. Ciao. E mia madre, l'avete vista? Sono qui. Sergio, questo è Mar. Mar, lui è Sergio. Ciao, Mar. Come stai? Bene. Non so cosa sia successo qui dentro, non viene nessuno. Perché non andiamo a vedere? Stai tranquilli, Laura verranno. Bello, spero. La signora Sandra Rinaldi? Sì, sono io. Le sue analisi. Grazie. La apro io? O preferisci aprirla tu? Io. 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 Sono tua mamma. Lo sai. Lo sai, mio mio. Amore mio. Grazie, Signore. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Amore mio.